Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Matteo Messina Denaro e figlio di Francesco Messina Denaro, fratello di Rosalia e Anna Patrizia Messina Denaro e zio di Francesco e Lorenza Guttadauro, insieme al padre, Messina Denaro svolgeva l'attività di fattore presso le tenute agricole della famiglia Dallistaiti, già proprietari della banca Sicula di Trapani, all'epoca il più importante istituto bancario privato siciliano, e delle saline di Trapani il suo padrino di Cresima e Antonino Marotta, uomo d'onore ed ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano, coinvolto anche nella misteriosa morte del bandito. Una follia che secondo il consigliere regionale dei Verdi, in campagna Francesco Borrelli si sta diffondendo in certi ambienti nel napoletano, uscire con un outfit che richiama quello di Matteo Messina Denaro al momento dell'arresto. La foto che il consigliere campano ha diffuso su Twitter raffigura un uomo con il montone, le scarpe griffate, il cappello griffato e i colori identici. Un fenomeno preoccupare oltre che ripugnante che sembra si stia diffondendo in alcune realtà del napoletano. In giro con l'outfit del boss sanguinario Matteo Messina Denaro. La nuova moda che spopola dopo la cattura della titante. Borrelli, fenomeno aberrante. Cioè che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di tendenza. Tante segnalazioni dal napoletano a scritto Borrelli.